10 anni di un sodalizio con Udinese che ci ha visto affrontare sfide che sembravano irraggiungibili e la Dacia Arena che ci ospita oggi ne ha la dimostrazione più tangibile. Il primo stadio Family Friendly che ha visto in questi anni le famiglie, i futuri imprenditori, le mogli in dolce attesa, protagonisti di campagne inedite e uniche. Quest'anno abbiamo voluto puntare l'attenzione sui giovani calciatori di domani e in collaborazione con l'Udinese Academy League abbiamo creato il premio Best Value Young Player Powered by Dacia che si pone l'obiettivo di spronare i ragazzi della categoria giovanissimi nati tra il 2004 e il 2005 di tutte le scuole calcio italiane affiliate all'Udinese a tirar fuori la grinta e l'impegno necessario ad emergere. Che si tratti di diventare un gran calciatore o di tenere buoni risultati a scuola, il premio Best Value Young Player mira a promuovere nei giovani partecipanti valori positivi quali la costanza, la determinazione e la motivazione in ogni circostanza. Il Best Value Young Player sarà premiato con una targa di riconoscimento e vincerà la possibilità di partecipare ad alcuni momenti in ritiro estivo con la Primavera Allievi dell'Udinese. Io sono molto onorato, devo essere sincero, di questa bellissima iniziativa. cercherò con il mio team di scegliere un ragazzo che poi un giorno magari lo vedremo in Serie A. Questo è il mio obiettivo, il nostro obiettivo. Dacia, Best Value for Life